Musica Sì, buongiorno Buongiorno spettatori, eccoci insieme qui con noi, ben ritornato Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto. È importante la sua presenza anche oggi perché poi tra l'altro oggi molte categorie che sono state coinvolte direttamente per l'ennesima volta da questa estesissima zona rossa di chiusura lamentano gravi difficoltà di non essere ascoltati, non essere sentiti, di essere trascurati in virtù di sappiamo di che cosa, della salute naturalmente però obiettano di aver fatto tutto il possibile. Prima di entrare a bomba sul tema che affronteremo sicuramente rispondendo alle vostre numerosissime mail che ci sono pervenute durante il weekend quando si è saputo di questa situazione, certa anche per la nostra regione, guardiamo un po' qualcosa di positivo, in modo da rincuorarci un attimo e dopo andiamo a vedere i problemi invece. Cortina, si è chiusa una stagione diciamo così agonistica perché non è stata turistica e si è si prospetta qualcosa di nuovo, com'è andata? I campionati del mondo dal punto di vista del turismo conosciamo ben tutti i numeri, sono stati una grande impresa organizzarli e anche farli perché non era assolutamente un'impresa facile però poi dal punto di vista sia anche agonistico perché diciamo che il pubblico crea comunque, è il terzo in campo e quindi è una situazione che Cortina l'ha superata, l'ha superata con molta anche onestà nel senso di dire bene la facciamo perché non si può assolutamente rinunciare a un appuntamento come un campionato di sci mondiale. Però conoscendo che anche le montagne nostre sono state penalizzate su una maniera drammatica quindi questo virus continua a produrre sempre di più negatività e sempre di più problemi legati appunto anche a quello che è la vita economica di un territorio, di un paese. Quindi secondo lei questo evento importantissimo non è stato di rilancio come avrebbe potuto e non lo sarà neanche di futuro oppure sì potrebbe aprire se non altro una stagione diversa quella estiva? Beh chiaramente è stata una bella palestra per capire che anche durante un periodo di grandissima difficoltà come questa si è riuscita a mettere in piedi un campionato del mondo quindi io devo fare i complimenti sia a Alessandro Benetton che anche a Giampiero Ghedina perché sono stati veramente molto bravi. Chiaramente non hanno potuto dare soddisfazione a Cortina perché conosciamo bene tutti la situazione pandemica. Però insomma questa è stata la palestra per capire anche come rimettere in piedi adesso che il prossimo appuntamento saranno le Olimpiadi. Le Olimpiadi in 2026-2026 saranno un appuntamento mondiale e quindi lì speriamo di essere preparati e pronti e che avere lasciato alle spalle questa pandemia e cominciare a vedere insomma con la prospettiva adesso di organizzarla in maniera che tutto il territorio ma anzi un territorio molto ampio perché le Olimpiadi sono Milano, Cortina che ne abbia beneficio tutto il nostro territorio e soprattutto insomma il nostro paese. Voi avete firmato un protocollo di intesa tra il comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici italiani e la Confcommercio Veneto e anche Lombardia per coinvolgere le attività commerciali, forniture di beni e servizi in questo che dovrebbe essere una kermess notevolissima di rilancio del nord del nostro paese insomma sostanzialmente. Che cosa implica questo accordo? Quindi per chi ha le attività produttive eccetera solo quelli di Milano e di Cortina ne trarranno giovamento oppure l'intento visto che c'è il Confcommercio regionale è qualcosa di più ampio respiro come se l'ha parlato tempo fa? Sì, abbiamo firmato come Presidente regionale sia io che Sangalli abbiamo firmato questo accordo per dare più ampio respiro al territorio perché non sia un territorio solo concentrato a Cortina o a Milano in queste Olimpiadi. Queste Olimpiadi devono abbracciare tutto il nostro Veneto e la Lombardia e quindi noi abbiamo creato questo tipo di accordo con il comitato perché tutte le nostre città in qualche modo siano coinvolte in queste Olimpiadi perché non si vive solo esclusivamente di diciamo gare ma bensì Verona sarà la finale dei giochi olimpici all'Arena di Verona e questo darà modo a chi viene in Veneto per vedere le Olimpiadi di conoscere anche il nostro territorio quindi tutta l'enogastronomia, tutte le nostre bellezze, tutte le nostre peculiarità, le eccellenze del nostro territorio questo è quello che ci siamo prefissi con questo accordo quadro per mettere in moto appunto una macchina che si trovi preparata alle Olimpiadi e non magari diciamo arrivare all'ultimo miglio sempre con l'affanno. Vogliamo essere pronti e preparati, una grande opportunità e una grande occasione per il nostro territorio. Le infrastrutture di cui si era parlato tempo fa che sono un po' sempre il nodo cruciale se relative alle zone di montagna nostre insomma per avere ragioni quindi raggiungere Cortina, si diceva che la prova poteva essere quella di questi mondiali e adesso vediamo un attimo se tutto è filato liscio se bisogna intervenire in modo importante, se bisognerà intervenire in modo importante per le Olimpiadi perché qui si parla di transiti ben diversi compatibilmente col virus che dovrebbe essere debellato insomma. Fino adesso non ho avuto modo nel tempo di dare sfogo alla delega che la Conf Commercio Nazionale mi ha dato sulle infrastrutture e quindi adesso devo assolutamente creare degli appuntamenti sia con il Presidente regionale Zaia sia con il Presidente regionale Lombardia per capire come e cosa bisognerà fare per essere preparati perché noi come infrastrutture abbiamo qualche problemino molto serio si parlava anche di fare il collegamento su ferro con Cortina quindi sono tutte situazioni che dobbiamo andare a discutere soprattutto quando parliamo appunto dei recovery plan e quindi c'è una grande opportunità perché il 2026 devono essere non solo investiti ma anche ultimati i lavori bisogna correre, bisogna far presto, bisogna individuare quali sono le situazioni da andare a migliorare qualcuna ma da costruire da zero a fine qualche altra situazione quindi è una grande opportunità e non dobbiamo assolutamente farci trovare impreparati sarebbe perdere la grande sfida per il nostro territorio questo vuol dire anche non solo per le Olimpiadi ma per tutto il comparto che riguarda la nostra regione che ha bisogno di infrastrutture se vogliamo essere la locomotiva italiana attraverso come la Lombardia e l'Emilia Romagna dobbiamo anche avere infrastrutture che supportano la nostra logistica la Lombardia ha già avuto l'expo con Milano e anche se era incominciato ed è arrivato quasi fino al photo finish in situazioni non certo rose poi è stato un volano incredibile molti sperano che la Lombardia, forte di un'esperienza già maturata in quest'ambito possa dare anche un supporto perché anche in Veneto si realizzi pur non essendo messi male assolutamente però quando parliamo di montagna sappiamo che sono aree un po' più fragili perché si realizzi la stessa cosa che poi rilancia in modo importantissimo ma quanto del recovery plan potrebbe andare a questo oppure c'è un budget destinato con le Olimpiadi anche per l'aspetto infrastrutturale annesso e connesso di rinnovamento delle strutture di ricettività e quant'altro quindi come sono i capitoli di Mirancio? se ne avete parlato intanto perché è andata bene una volta non è che deve andare bene come regola tutte le volte ma si spera quindi ecco no no ma nel senso che dobbiamo programmare dobbiamo assolutamente fare dei ragionamenti seri dobbiamo capire cosa e come agire e soprattutto questi recovery plan devono avere una progettazione ben chiara so che li stanno costruendo perché a quanto ho capito quelli che erano stati programmati sono in via di definizione adesso e quindi io spero che il Veneto ne abbia una buona parte perché come infrastrutture siamo carenti l'Italia è lunga e stretta e ha bisogno anche il sud di grandi collegamenti perché sta soffrendo però in testa a un treno c'è sempre la locomotiva e se la locomotiva non corre non corre tutto il resto dei vagoni quindi dobbiamo mettere i beni a fuoco cosa servirà al nostro territorio e noi preoccupandoci del Veneto dobbiamo essere molto pragmatici in questo momento c'è un bisogno di essere pragmatici non è più il momento della filosofia adesso e neanche dei campanili adesso bisogna guardare su un sistema paese cosa dobbiamo fare e mettere in moto tutte queste priorità assolutamente sì allora parleremo ancora di questo però adesso andiamo in pubblicità se voi dovete mandare i massaggi approfittatene perché adesso entriamo nel merito della situazione invece del commercio in generale di come affrontare anche questo periodo di tanti insomma che hanno tante categorie coinvolte che hanno anche scritto e hanno lamentato una situazione di grave disagio e il punto di domanda grande come sempre sono gli aiuti i rimborsi i ristori come vogliamo chiamarli soldi sostanzialmente o qualcos'altro tra poco che ci sono